Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo istruzio, 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 istruzio video! Da quanto tempo non ci vediamo, da tantissimo, tolti gli shorts che ho posto ogni giorno. Vorrei tornare con... Vorrei tornare con le song video reaction, ossia le reazioni e i videoclip delle canzoni più hit del momento. E mi son detto, quale momento migliore dell'estate dove ci cacciano fuori più canzoni delle regole infrante dalla Juve? Io non mangio frutta, eh lo so, è il mio grande difetto. Quindi non avete idea della difficoltà e dello schifo. Schifo si può dire? No ma ormai l'hai detto. Vabbè dai la tagliamo questa parte. Ti ho avuto a riaccionare questa canzone. Ma ora bando alle ciance, ciance alle bande, noi ci rivediamo alla fine del video con delle news importantissime. Fine video? E il video chi lo fa? Ah, già. Vabbè, noi ci rivediamo fra tre secondi e tu... Cosa? A paiaia! E tu non mi interrompere. Tre, due, uno... Buona visione! Allora, quando è il prato a primavera io sarei finito in shock a napiattico con l'allergia che mi ritrovo e penso che poi non si renda meno. A meno che io non si defini dell'onnipotente quelli culati che non sono allergici nemmeno alle graminacee. Vi ricorda qualcosa? Uguale! La fragola! Altra cosa a cui sono allergico! Ma qua mi vogliono fare morire! Sei tu che hai scelto di reazionare una canzone che si chiama Fragole? Già! Non potevi certo aspettarti le banane, le zucchine o le patate! Peccato! No, bianconiglio! No, il fiore no! Sei allergico a che fai? Fragole, panna e champagne! No, scusate! Anche se è lungo il cammino... Fragole, panna e champagne! Ma, anche un attimo! Fragole, panna, ci siamo! Oh, legge il telefono! Mannaggia, papi, sta chiamando! Fragole, panna, ci siamo! Ale! Dimmi! Ho visto un porno iniziare così! Non si dicono queste cose! Anch'io! Ma facciamo finta di niente! Questa volta che il video non la mettiamo, eh! Dicevamo! Nonostante tutto l'alcol che vi bevete, perché so che nel corpo c'hai più alcol che acqua, vi berreste mai lo champagne con le fragole? Ma che schifo! Ma che ne capisci? Tu sei astenio! Non dirlo che se non sfiguro! Fragole sotto la luna! No, ditemi dov'è la luna! C'è più sole di quanto c'è ne ha ferragosto! La luna! Ma! Stanotte un altro dirà! Cosa, cosa? Sono gemelli, sono curioso! Ah, a proposito! Oggi è il mio compleanno, eh! Non l'ho mai detto a nessuna! E tienitelo sto segreto! Poi se voli in cielo non dire che io non ti ho voluto aiutare, eh! Bambolina! Ti sembra una bambola? Guarda che non c'è manco il naso di fatto! Che muo va di moda! Domani torno da te! Satti pure dove stai! Chi è tutta sta confidenza? Con una nuova bugia! Ah, pure! Apprezzo la sincerità di questa bugia! Tanto non ti importa di me! Beh, oddio! Questo non posso negarlo! Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole! Eh, porca broia! Se me le mangio divento la pimpa! Vuoi capirlo o no? Oh, sei fra... Oddio! E dove esce questa? Si è messo dei lamponi in testa? A gole! Tengo l'edio sabato e domenica domani! Ti ringrazio! Ringrazio il dottore! Rifiuto l'offerta e vado avanti! Vi prometterò la luna! Luna! Un anno non potri solamente la tua parte migliore! Non lo fingerò di crederti solo perché sei te! Ma grazie, gentilissimo lamponcino! Ah, andiamo a convenienza, quindi! Dal prato al finile è stato un attimo, vedo! Dance, 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 puccià! Gnam! Non l'ho mai detto a nessuno! Domani torno da te! Oh, che coniglio, eh! Non si trasforma in principe! Al massimo ti può dare qualche figlio! Tu vuoi le fragole? Sei fissato questo, oh! Casa mia, questa sera mi va... Non sai più farne a meno, no! Sì, guarda! Hai presente le mutande delle ragazze col ciclo? La casa mia rossa così, eh! Ma per quante fragole ho? Non sai che fartene! Pensavo di regalartene qualcuna, ne vuoi? Forse dopo stasera, chissà... Come stasera? Che io stavo scherzando! Fermo, fermo! Non ci sono stasera! Che è il mio compleanno! Ti invito da me! Beh, guarda! Se mi invidi tu, lampone mio, potrei disdire tutti gli invitati e... Venire da te! O dentro di te! Poi ti grido, fattene! No, ma secondo me voi due non state tanto bene! Mi invidi! Io annulo la festa per festeggiare con te! Poi vengo... Il senso capitelo voi! E me ne cacci! Ho capito! C'è il ciclo! Ecco perché parli tanto di sefragole rosse! Ma tanto lo sai più forte di me! Beh, come darti torto! Davanti a certi serpenti non si può che suonarli! Due rifragole, panna e champagne, un'isola deserta! Ah ecco, mo' siamo passati dal prato al fienile, alla casa di lei, ad addirittura l'isola deserta! Apritevi il collega lento! Alvi! E' come una fragolessa che mi gira la testa! Quella da cervicale è come me! Al collo c'ha un mille conchiglie ed un cogliedi perla! Per la cervicale questo non aiuta! Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella! Ma la caramella dovresti mangiarla tu! Tu dovresti essere il suo biscottino! Da inzuppare! Salve ragazzi! Grazie a tutti per aver visto questo video! Se vi è piaciuto, come sempre lasciate un pollice su qui sotto! Commentate scrivendovi quale prossima canzone dell'estate volete che io reaccioni! Personalmente avevo pensato a quella nuova di Fedez! Però fatemelo sapere voi nei commenti quale vorreste! Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale! Condividete questo video ovunque su tutti i vostri gruppi Whatsapp! In modo che ascoltate questa canzone con un sottofondo diverso! Con qualche commentino piccantino! Ma se non mangi piccante! Vero non mangiamo anche quello ma non dirlo! Posso finire il video? Grazie! Seguitevi ovunque soprattutto su Instagram e TikTok dove sono attivo ogni giorno e faccio il passo ogni giorno! Scoprirete la migliore e peggior parte di me! Sono attivo anche qui con gli shorts ogni giorno o quasi! Senti ma poi questo video me lo c'è la canna? Eh? A Pagaga! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao rimi! Vi abbraccio tutti! Fatemi gli auguri eh!